Però adesso è il momento di un altro ragazzo. È vero, un altro ex allievo, questo è proprio fresco di giornata, è uscito l'altro ieri. Ebbene sì, ebbene sì, allora lo chiamiamo qui sul palco, si tratta di Matteo Lambertucci. Eccolo che arriva, devo dire velocissimo. Tra l'altro sia Alex che Matteo hanno recitato e cantato insieme in tutti questi anni, quindi, come dire, sono molto poliedrici, è vero Matteo? Allora, abbiamo tutto. Che è rimasto nel cuore degli insegnamenti dell'Istituto Santa Maria, dei docenti, in modo particolare? Parla bene, eh! Di questi ragazzacci! Ma sicuramente è l'esperienza di un insegnamento giornaliero, possiamo dire. per tutti i giorni, e quindi la scuola si vive bella, e non diciamo cavolate. No, non ti abbiamo pagato, diciamolo però. No, comunque sia, la scuola è sempre un'esperienza bellissima, perché puoi incontrare coetane e puoi scambiare idee. È vero, tu avevi già una predisposizione, però sicuramente poi con la scuola l'input è arrivato ancora in maniera più massiccia, no? Io ho scelto questa scuola perché c'erano le arti dello spettacolo, quindi grazie a tutti i due insegnamenti, anche quelli di Daniele e di Alessandro. Sono diventato, insomma, anche vostro figlio artistico, no? Possiamo dire che io sto invitando Matteo spesso ai miei spettacoli, sia due o tre, e mi dà due o tre volte buca, cioè, perché è pieno di impegni. Io questo, anzi, lo farò sempre in modo che così voglio che mi dica sempre no. Capito Matteo? Sì, ho capito. Mi raccomando, quindi è una bellissima cosa, però uno spettacolo ci viene a fare. Assolutamente. Ok? Matteo Lambertucci. Questa canzone, prego, si intitola Termini. Grazie. Grazie. Beato te che sei felice Eh, con le mani, su! Eh, eh, eh! Sì. La tua felicità Carbura piano Sì, non ti dinta Il traffico romano Dovrei perdere Lasciare oltre Nelle termine Di coscienza Abbandonare tutti i costi La tristezza Sì, è Sì, è La tua felicità È un uragano Fa più rumore Del traffico romano Vorrei distendermi Senza parlare sempre solo di disordini Quanto costa la tua assenza Come una casa di campagna in Provenza Questa gente Questa gente E dove termini Oh, termini Uh, termini Oh, e dove termini Termini Uh, termini Oh, oh La calma sempre Ti sa aiutare Rilassa il ventre Avendo tutto il tempo per cambiare L'estetica è l'esca E l'etica all'amo I tuoi problemi Li cura solo il tempo Devi solo andare a tempo In tutti i sensi Questa gente E l'etica non sa dove inizia E l'etica è l'etica E dove termini Oh, termini Termini Oh, termini La calma sempre, ti sa aiutare Non è termini, ti sa aiutare Non è dove termini, ti sa aiutare Non è dove termini Grazie, grazie mille